Una serra, una food gallery, uno street market, una corte interna, due parcheggi interrati e ancora un alloggio, un mercato, gli uffici del CNR e uno spazio dedicato ai laboratori. Si presenta così la nuova ex manifattura tabacchi o meglio quella che potrebbe diventare nel giro di due anni. Un progetto da 50 milioni di euro ideato dal gruppo Vincenti di Bari, un team di 18 persone guidate dall'architetto Giovanni Vincenti, già direttore tecnico dell'ultimo progetto di recupero del Teatro Petruzzelli. E' lui il vincitore del concorso nazionale Mani Futura, indetto da Invimit e Comune di Bari per la riqualificazione dell'ex manifattura. Il suo progetto, denominato Non più Fumo, vince un premio di 10 mila euro. Al secondo, terzo e quarto classificato vanno invece 3 mila euro ciascuno. Tra i 42 partecipanti, Vincenti ha convinto per la volontà di restituire ai cittadini uno spazio non semi ma iper pubblico. Inoltre la porzione di immobile di proprietà dell'università acquisita da Invimit ospiterà la sede unica del CNR. I luoghi saranno accessibili a tutti, giorno e notte, e dialogheranno con gli spazi urbani perché l'ex manifattura completi ciò che fuori manca. Nella zona centrale ci saranno invece le funzioni più a servizio della città, ci sarà un potenziamento, una organizzazione del mercato che attualmente già esiste. E poi si sono ipotizzati, ma questo sempre rispondendo a quelle che erano le esigenze del bando, degli spazi per i giovani, per attività ludiche, attività anche di ristorazione, per aprire in un certo senso proprio questa struttura anche al quartiere e alla città. Da questo punto di vista abbiamo poi pensato di eliminare quel muro di separazione su via Ravanas, quello che un tempo delimitava il cinema giardino, e farlo diventare sostanzialmente un altro pezzo di parco a servizio della città. Al di sotto di questo parco abbiamo sistemato una rimessa interrata per almeno 150 posti auto.